Francesco devi stare fermo, vieni qua, mettiti, la morisci, tu qui, perfetto, vieni qua, completa il cerchio, non devo prendere tutto, staccati, ok, fai un applauso, un applauso papà, fatemi un applauso per pensare di una famiglia che sono a farmi capire, no, non vi do le premone, non vi do le premone, e allora famigli, noi iniziamo da un tumbo.